Dopo il grande successo riscorso dallo spettacolo teatrale, il musical, aggiungi un po' sta tavola, i ragazzi della compagnia teatrale, quelli che passa il convento, provano a bissare il successo con un nuovo musical che andrà in scena sabato 29 e domenica 30 alla chiesa parrocchiale di Lama. Noi ne parliamo con due dei maggiori attori, con Sara Consigli e con Michele Sensi. Allora Sara, quattro anni di gestazione per un nuovo musical, che cos'è un Colossal? Sì, ci abbiamo messo molto tempo perché l'abbiamo maggiormente creato da noi, abbiamo ripreso degli sketch e delle canzoni di varietà degli anni 60 e abbiamo cercato di rimetterli nei nostri panni e immedesimarci in quelle persone. Quanto tempo ci avete messo per creare questo musical? Perché noi sappiamo che siete delle persone molto attente ai particolari. Sì, c'è stata una prima parte in cui abbiamo scelto i pezzi da fare, le persone giuste alla quale dare i pezzi e poi abbiamo iniziato a montare il tutto. Michele, allora, dicevamo, bissare il successo di aggiungi un posto a tavola sarà difficile, però diciamo che quattro anni, cinque anni di gestazione sono tanti. Il vostro regista Don Francesco, in questo caso, vi ha spronato o vi ha spinto? Don Francesco, più che il ruolo di regista, riveste il ruolo di rappresentante, presidente della compagnia. Di motivatore. Motivatore, sì, anche motivatore. Per dire, diciamo un termine caro agli tifosi interisti, il murigno di quelli che passano il convento. Sì, diciamo di sì. Poi per l'occasione ci siamo anche avvalsi dell'aiuto di una persona, di un collaboratore esterno che ci ha dato una mano a mettere in piedi lo spettacolo, una persona che ha maggiore esperienza di noi in questo campo, che è Leonardo Caprini. Grazie alla sua collaborazione siamo riusciti a mettere in piedi questa avventura che per noi è totalmente nuova, perché è la prima volta che decidiamo di buttarci in uno spettacolo interamente costruito da noi. Allora, ricordiamo le date, ricordiamo dove ci sarà la prima di questo nuovo musical. Sì, la prima di questo nuovo musical è sabato 29 e domenica 30 maggio, presso la chiesa parrocchiale, che per l'occasione è adibita a teatro, grazie anche alla collaborazione al sì detto dal vescovo il quale abbiamo interpellato. Quindi sabato 29 e domenica 30 maggio, presso la chiesa parrocchiale di Lama. Bene, un appuntamento da non mancare con i ragazzi di quelli che passano il convento. Grazie a tutti.